Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod Allora, quest'oggi voglio consigliarvi uno sfondo animato e un widget anzi, lo sfondo animato e il widget per il meteo dell'Asus Transformer Pad lo sfondo è quello che vedete impostato mentre il widget per il meteo è l'Asus Weather Widget questo qua non hanno particolari funzioni, tuttavia secondo me sono davvero molto carini per quanto riguarda lo sfondo animato, toccando potrete cambiare l'animazione quindi vedete che sono disponibili diverse animazioni e potrete scegliere quella che vi piace di più toccando invece sul widget del meteo, vi si aprirà questo menu in cui potrete scegliere tra la ricerca automatica, quindi con il GPS oppure manuale l'intervallo di aggiornamento e l'unità di temperatura, quindi tra gradi Celsius e Fahrenheit purtroppo non sono disponibili collegamenti, quindi non si può collegare il widget con il calendario o con l'orologio con il link che vi lascio in descrizione potrete scaricare un pacchetto che contiene i due APK utili per installare questo sfondo e questo widget tuttavia se vorrete installare il widget per il meteo avrete bisogno dei permessi di root una volta scaricato il pacchetto vi ritroverete con questi due file APK il primo, quello dello sfondo animato Aurora, si installerà normalmente quindi vi basterà dare installa e lui farà tutto da solo per quanto riguarda il secondo, se proverete ad installarlo normalmente ovviamente vi darà errore infatti come vedete applicazione non installata questo perché dovrete inserire il widget tra le applicazioni di sistema per fare questo avrete bisogno di un file manager come root explorer o ancora meglio root browser che è disponibile gratuitamente sul market grazie ai quali potrete andare ad agire sulle cartelle nascoste e quindi anche quelle di sistema una volta installato il file manager vi basterà andare nella cartella in cui avete salvato la APK del widget quindi android mode copiare il widget del meteo e andarlo ad incollare nella cartella system app quindi nella cartella applicazioni presente in sistema dovrete incollare, io ovviamente l'ho già installato e vi chiederà di concedere i permessi di root ovviamente dovrete concederli e lui effettuerà la procedura di installazione e quindi vi troverete installato nella cartella il widget voilà a questo punto dovrete semplicemente riavviare il dispositivo in modo da completare l'installazione e poi ve lo ritroverete nel menu dei widget una precisazione il widget non funziona su dispositivi con android 4.2.1 non so perché ma non sono riuscito a installarlo invece per quanto riguarda lo sfondo animato non ci sono problemi bene quindi oggi brevissimo video per queste due applicazioni decorative se vogliamo chiamarle così e quindi questo è tutto se il video vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi di mettere un bel mi piace di condividerlo e di far conoscere il canale se volete proporre una ROM o un'applicazione volete chiedermi qualcosa o semplicemente volete farmi sapere che cosa ne pensate dei video scrivete pure su facebook o twitter oppure sui commenti qui sotto il link per scaricare il pacchetto con i due apk è in descrizione e vi lascio anche il link al google play store per scaricare root browser lite detto questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti